Da oggi e fino al prossimo 3 agosto a Sala Consilina in oltre 60 negozi si può pagare con il Salese, la nuova moneta ideata dall'associazione locale Io Centro, preseduta da Antonio Pericolo. Il progetto, unico in Campania, è stato presentato sabato pomeriggio al Polo Culturale Cappuccini dai membri dell'associazione promotrice alla presenza dell'amministrazione comunale. L'iniziativa prevede che acquistando in una delle attività aderenti si riceva una banconota simulata che in realtà è un buon acquisto da poter usare per comprare ma anche per pagare utenze. Una sorta di cashback dal 5 al 10% a seconda del tipo di attività. Il progetto nasce dall'esigenza di sollecitare la ripresa dell'economia incentivando a comprare locale ma anche un valore fortemente identitario con simboli, oltre al nome, che rimandano alla cittadina fulcro del commercio valdianese. Alla presentazione sabato pomeriggio c'erano i commercianti, c'era il sindaco Francesco Cavallone insieme al consigliere delegato al commercio Vincenzo Garofalo. Questa è un'iniziativa interessante perché Sala ha come caratteristica quella del commercio. Il commercio a Sala è un elemento importante e il brand Sala è un brand vendibile sicuramente. Per cui noi abbiamo volentieri apprezzato questa iniziativa che intende è favorire il commercio e dare una forte impronta territoriale a Sala Consilina. Infatti la moneta, il salese, ha appunto questo spirito di voler far recuperare quello che è la nostra tradizione, e quello che è il nostro modo di essere, di sentirsi partecipe e parte integrante di un territorio che include Sala ma include anche i territori vicini. E siamo anche felici perché viene messo al centro quello che è il lavoro. Il lavoro deve essere pietra miliare del nostro presente e del nostro futuro perché chiaramente non possiamo pensare che pochi lavorino e quei pochi che lavorino mantengono tutti quanti alla sua situazione. La contribuzione fiscale è molto elevata, molto alta, non è più sostenibile, per cui bisogna allargare la platea delle persone che lavorano e dei contribuenti. Solo così avremo una società che potrà svilupparsi e potrà far fronte alle esigenze che, tipo la pandemia, richiedono.